C'è grande motivazione da parte sua, la motivazione che vogliamo che venga spalmata su tutto quello che sarà fatto da adesso in poi. Chiaramente è un ruolo importante perché è quello del centro, un ruolo importante che servirà e ci dovrà aiutare all'interno dell'area di tre secondi, non solo per i rimbalzi e il gioco d'attacco ma proprio per la copertura dell'area. Alla prossima Hello Cantu fans, excited to be here, ready to play hard, give my energy and excited to play with you guys, thank you.